Essere donna è essere quello che sono, è essere me stessa. Questo è coraggio, essere se stessi, perché oggi soprattutto viviamo di apparenza, non della sostanza. Adesso ci sono social, ci sono diciamo dinamiche diverse di una volta, e quindi per di sé un attimo. E quindi questa apparenza che vediamo intorno a noi è tutta un'illusione. La forza è proprio essere se stessi, nonostante tutto ciò che ci sta confondendo. Io credo che le donne nascono forti, quindi non è un momento, un momento è sin dal principio. Quindi continuare a combattere per questo sì, ma non è un concetto femminista assolutamente, perché io sono contraria a questo bigotismo. È proprio una crescita personale anche. Ogni volta che diciamo le donne, le donne, le donne si sono emancipate, quindi ormai siamo noi che dobbiamo essere anche più sentite in questa maniera. Grazie a tutti.